Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video ti spiego come risolvere questo errore che non riesce a connetterti al server di Minecraft. Ovviamente questo errore esce sempre ormai da anni, in questo caso io ti aiuto a risolvere questo problema, quindi prima di iniziare questo tutorial ti consiglio di iscriverti al canale e di attivare la campanella e di lasciare un like. Ora andiamo un attimo sul programma Java, ovviamente una persona per scaricare Minecraft prima di avviarlo ti dirà di scaricare un programma che si chiama Java, quindi Java, configura Java, ti uscirà così questo pannello di controllo Java, tu stai su generale, vai su aggiorna e qui su aggiorna ora e vedi se devi fare qualche aggiornamento, ovviamente qui c'è scritto aggiornamento Java disponibile, io adesso lo aggiorno. installiamo così la nuova versione di Java, non la installo da quasi due anni, installa, già è passato parecchio, se in questo caso ti esce questo errore, fai chiudi, andiamo su applicazioni, installazione applicazioni, disinstalliamo tutti i Java che abbiamo sul nostro PC, scarica Java, installiamo così Java, ecco, ok installazione riuscita, chiudiamo un attimo qua, andiamo su prompt dei comandi, cmd, esegui come amministratore, e cominciate a scrivere ipconfig.dns, abbiamo svuotato così la cache, ora scriviamo ipconfig.dns, mi raccomando, prima di scrivere questo comando, tu ti disconnetterai dalla rete, quindi scrivi ipconfig.dns e poi scrivi ipconfig.dns e la rete si riconnetterà di nuovo, e avrai così configurato al meglio la tua connessione, ecco, questo è il comando da scrivere dopo ipconfig.dns, quindi devi scrivere poi ipconfig.dns e la rete, ok, se no poi il video non riuscirai più a guardarlo perché ti sarai disconnesso dalla rete, ok, release, abbiamo così per ora staccato la connessione a internet ipconfig.dns e la rete, ok, ci siamo riconnessi così alla rete e facciamo exit, chiudiamo qua quindi, spero tanto di esservi stato d'aiuto in questa nuova guida, ragazzi, ti consiglio di iscriverti al canale attivare la campanella e di lasciare un like se hai problemi, commento, oppure entri nel server discord se hai bisogno e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao